A partecipare alla 33esima edizione del Festival Cabaret Amore Mio, Marco Ferrari! Detto questo, vi complimento con tutti ragazzi, siete tutti bravissimi, come si diceva oggi non tutti possono entrare a far parte del Festival, ma non perdete vita animo, continuate perseverate, perché essere sul palco di Grotta Mare vi assicuro che è un'emozione bellissima e spero che capiti presto a ognuno di voi. Volevo fare un appello che è già stato fatto dal sindaco Pier Gallini, il Festival Cabaret Amore Mio è un festival che esiste solo per voi, per merito vostro, quindi anche in un anno difficile, ma anche quest'anno lo sapete sta vivendo un periodo tremendo, il terremoto ha fatto dei danni enormi, quest'anno abbiamo avuto pochi soldi ma una grandissima risposta, quindi noi abbiamo bisogno di voi, se ad agosto sarete Grotta Mare venite a trovarci e rimanete felici come tutti gli anni in cui siete stati con noi, se non potete esserci mandateci i vostri amici, aiutateci a riempire il palco anche quest'anno, grazie. E speriamo il 5 e 6 agosto al palco delle mie amici di Grotta Mare. Che dire, è stata una bellissima serata, con un grande padrino Antonio Ornano, un grande applauso, una scoperta esibizione davvero, grazie a tutti i ragazzi dal pomeriggio alla sera.